Buongiorno amici guerrieri, in questa fase storica in cui c'è l'attentato totale ad ogni forma di valori e ad ogni forma di spiritualità in cui l'umanità è calpestata, ovviamente nel mio piccolo mi domando, anche perché ne sento un'esigenza grandissima, come possa io intervenire, come possa portare un'azione, anche perché io non credo in una spiritualità immobile, in una spiritualità pavida. La spiritualità è azione e la spiritualità è per il mondo e per gli esseri umani. E quindi ovviamente ho messo l'attenzione sulle mie competenze, sulle cose che riesco a fare meglio. Non potrei fare nulla, per esempio, nel campo della politica, farei ridere i polli, lo so come sono fatto, però mi riconosco una certa competenza a vari livelli sul piano psicologico e sul piano spirituale. Ed ecco che mi è sorto il desiderio di portare avanti un'iniziativa molto semplice, ma che per me ha un valore immenso, portare avanti una specie di bignami del pensiero di Sri Aurobindo e della madre di Mer, perché a mio avviso Sri Aurobindo e Mer, perché sono due espressioni di una stessa coscienza, rappresentano in questo momento l'apice del pensiero evolutivo umano, la punta più alta. E contengono anche delle chiavi molto adatte al nostro periodo storico, perché Sri Aurobindo ci parla di una spiritualità da incarnare nella vita, nell'azione, da non rimandare a ciò che accadrà quando lasceremo questo corpo, ma è ora, in questo istante, in ogni istante, che ha senso la nostra reale azione spirituale. soltanto che tutti coloro che si accostano a Sri Aurobindo, quindi anche a Mer, ma Sri Aurobindo soprattutto, trovano grande difficoltà. È stato un maestro che ha scritto tantissimo, ma di non facile lettura perché i suoi pensieri, le sue esperienze, i suoi insegnamenti sono molto raffinati, molto profondi. e ci vuole sicuramente tempo e concentrazione per cercare di approfondire ciò che lui ci ha detto e ci ha portato. E quindi varie persone che si sono imbattute in Sri Aurobindo e sono rimaste entusiaste, hanno sentito veramente la grandezza di questo essere, però mi hanno sempre riferito la grande difficoltà di tradurlo in una sadhana, di tradurlo in una disciplina iniziatica, in un cammino spirituale, in una via in qualche modo organizzata. E' proprio così perché mentre tutte le vie tradizionali d'Oriente ma anche d'Occidente sono state codificate, hanno proprio un percorso, un processo, ci sono dei maestri e anche degli insegnanti, ci si può in qualche modo collegare ad una di queste scuole dove troviamo persone che possono insegnarci, accompagnarci, darci delle pratiche. Beh, con Sri Aurobindo tutto ciò non è assolutamente possibile. Non ha creato un metodo perché Sri Aurobindo ha aperto una porta insieme a Mer. Ha aperto una porta e sta a noi percorrerla, ma questa porta è una porta di una via nuova che si sta facendo che in qualche modo ognuno di noi deve creare, adattare alla propria struttura personale, alla propria modalità di funzionario, ai propri talenti. però a ben vedere se ci si accosta a Sri Aurobindo con una certa ormai capacità di leggere il suo pensiero, e sono anni che lo sto studiando e praticando per quel che posso, ci si accorge che invece lui ha dato delle indicazioni ben precise che bisogna però estrapolare da un vasto contesto. Quindi è vero che non ci sono maestri di yoga integrale, non ci sono scuole, non ci si può iscrivere, ma è anche vero che lui ha dato delle indicazioni, solo che sono sparse in questa opera vastissima e quindi il mio tentativo è quello di condensare i punti fondamentali dello yoga integrale di Sri Aurobindo, del purna yoga di Sri Aurobindo, per venire incontro a coloro che all'inizio non sanno proprio come orientarsi, non sanno come approcciare questa immensità di conoscenza, questa conoscenza che scaturisce da un essere veramente eccezionale, da un avatar. Io ho cominciato a scrivere un libro aperto, aperto perché di settimana in settimana lo rinnovo, lo completo, piano piano lo porto avanti, che ho intitolato Le tappe fondamentali del purna yoga di Sri Aurobindo e che ho deciso di mettere a disposizione di tutti e che si può trovare sul mio sito robertosassone.com e anche sul mio profilo Facebook l'ho messo proprio in alto, fisso, in modo tale che ognuno lo possa facilmente trovare. Ho scritto come presentazione, questo è un libro aperto che cresce ogni settimana. Lo sto scrivendo nel tentativo molto arduo di consentire ai neofiti di accostarsi a Sri Aurobindo. E poi sotto metto la data dell'aggiornamento, in questo caso l'ultimo aggiornamento, il 28 settembre, ore 9. Ecco, sono molto preso da questa iniziativa, mi dà grande gioia e sono sicuro che sia utile a tutti coloro che vogliono cominciare ad addentrarsi in questa meraviglia che è costituita dal pensiero di Sri Aurobindo e quindi anche di Mer, ma questo lo vedremo in un secondo momento. volevo segnalarvi questa mia iniziativa che è un altro dei miei modi possibili per poter dare una mano, per poter portare qualcosa che possa essere utile anche perché in questo periodo di oscurità insistere con l'intento di riportare quante più persone possibili ad una via spirituale o almeno a collegarsi con dei valori etici e a mio avviso una grande forza che può aiutare gli esseri umani. Vi auguro ogni bene.